ciao a tutti ragazzi sono david dell'ievo così benvenuti in questo nuovissimo video allora partiamo subito col dire che mi devo scusare per l'enorme assenza che abbiamo fatto quasi da una settimana e mezza che non ci vediamo cioè che non parliamo con voi che non facciamo video ma come sapete siamo veramente impegnati ryan anche dimitri che fa porta call of duty siamo veramente impegnati con la squadra della patente e tutto quanto per registrare un video bisogna avere comunque moltissimo tempo a disposizione cosa che in questi periodi anzi in questo periodo veramente scarseggia come potete vedere siamo su clash royal grandissima novità per clash royal finalmente clash royal sarà rilasciato per android e su tutti gli store del mondo compreso apple market di tutto tutti tutti quanti insieme appassionatamente e finalmente potremmo andare a giocare con il cellulare perché come sapete io c'ho samsung e non avendo ios e non posso connettermi allo store canadese e di conseguenza scaricare sto benedettissimo sta benedettissima applicazione mi sembra che non ho detto quando esce comunque io ve lo ripeto lo stesso nel caso l'avessi già detto esce esattamente questo marzo quindi tra un mesetto abbiamo la versione finale rilasciata per tutti gli store devo dire che siamo veramente andati avanti come potete vedere ho cercato di cambiare il mio mazzo e ho trovato la pozza del gelo però mi sono dimenticato di registrarla posso assicurarvi che adesso il mazzo è molto più resistente come potete vedere ho cambiato il moschettiere al posto del gigante e la pozione della pure l'ho sostituita con la pozione del gelo sperando che sia un mazzo abbastanza potente assi poi ragazzi facendo di vari spacchettamenti sono riuscito anche a trovare il pecca che è questo qua appunto un po di info sul pecca vediamo che livello 1 ancora non ho trovato la seconda carta per fare il livello 2 prima o poi vi lo prometto uscirà il video dello spacchettamento di cui appunto trovo anche il pecca non lo faccio ora per il semplice motivo che questo qua è un video solo per avvisarvi che tra poco ci sarà la nuova versione di clash royale che appunto sarà worldwide ossia per tutto il mondo intanto andiamo a aprire queste velocissime ceste facciamo uno spacchettamento veloce tanto queste qua sono cagate cioè sono ceste veramente schifose luride vediamo la golden dai gold dai 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 un cazzo perché non c'è niente niente noi apriamo la silver come al solito e niente allora io direi se trovo qualche replay carino ve lo facciamo anche vedere no vedi replay no longer anche non c'è il replay perfetto e allora niente andiamo a fare una partita anche se sono quasi sicuro che perdiamo perché io faccio schifo in questo gioco poi ovviamente non avendo neanche la possibilità dell'armi non riesco neanche a fare leggermente meno schifo quindi oltre che faccio schifo ancora più schifo e niente allora vediamo di vincere sta partita anche se la vedo già dura questo qua sembra che non si muove va beh adesso incominciamo con quella strega la prima volta che uso la pozione del gelo e forse è meglio che sia la prima volta dare se vabbè ti devi muovere a farlo fuori santo dio di muovere e olè questo qua ha messo anche il l'arco x all'arco x adesso è vero ragazzi con l'aggiornamento tira solo truppe terrene quindi noi ce ne andiamo bellamente dall'altra parte sempre che non si incazzi con me ma beccato giustamente comunque hanno fatto un buon lavoro mettendo l'arco x solo per truppe terrene anche se penso che io ho fatto una cagata togliendo dal mio mazzo le la furia perché era veramente l'unica carta che mi riusciva meglio la gelo la vedo abbastanza inutile con questo tipo di mazzo quindi penso che cambierò mazzo e metterò la gelo vediamo se riesco a fare sta cagata ok perfetto perfetto ci siamo gli scheletrini stanno attaccando la torre sono merda 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 dai avanti su questi draghi sono potenti dai no non è possibile non è possibile no il domatore no tutto ma non il domatore il domatore no no non ce la farai mai almeno il pareggio almeno il pareggio per favore per favore almeno il pareggio almeno il pareggio e il pareggio c'è vediamo se ora riusciamo a fare qualcosa in più che il pareggio anche se la vedo dura molto dura anzi praticamente quasi impossibile vedete di far fuori sto coso cortesemente vedete di farlo fuori grazie dove vado di qua oddio no aspetta 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 brutta 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 cosa brutta 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 bruttissima bruttissima non va bene non va bene questo no essere cosa buona no cosa buona ecco questo poi guarda se quello non era cosa buona figurati questo che mi spacca tutto mi spacca adesso no non venite qua a scassare la minchia non venite qua no 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 questo no questo no questo no questo no questo no l'arco x adesso incomincia a scassare le madonna comincia comincia dai raga dobbiamo dobbiamo almeno finire sta partita e uscirne indenni cioè senza perderci nulla ma tanto so già che ci perdiamo perché praticamente perdo sempre no quindi è giusto che è giusto così no no non ce la facciamo non ce la facciamo questo round è perso sicuro al cento per cento 30 secondi io faccio tipo la difesa di 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 gesù cristo che mi metto e difendo come un malato mentale per 20 secondi ha capito però che la parte debole quella di sinistra si è svegliato si è svegliato tutto di un colpo si è svegliato no 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 lasciami stare lasciami stare il mio fantastico villo no fermi buoni buoni 4 3 2 mettiamoci la pozza olè pozza presa di culo e riesco a fare il pareggio non si sa come mai veramente proprio di bestia è stato un combattimento che veramente cioè non potevo non potevo neanche immaginare di fare un fail così grande però vabbè è andata già è andata già meglio perché pensavo direttamente di perderla per questo video è tutto mi dispiace per il video corto però dovete capire che non c'è molto tempo libero devo anche editarlo e farvelo uscire perché se no mi mangiate mi dite che non facciamo video noi comunque aspettate nuovi video perché ne arriveranno ben presto lo spero e niente se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace noi ci vediamo in un prossimo video mi raccomando iscrivetevi bella a tutti